Radio Doppio Zero, Radio Doppio Zero, suona ciò che ami, più suona e più la ami Il 19 gennaio sono decorsi due anni dalla scomparsa di Attore Scola e uno dei film che l'ha reso più celebre è stato proprio una giornata particolare questa sera a teatro ne vediamo una trasposizione teatrale che peso ha avuto per voi fare questo spettacolo? Un grande dolore anche perché abbiamo iniziato le prove da pochi giorni e questa notizia improvvisa della morte di Attore Scola ovviamente dal momento che c'era anche, ho fatto un film con lui c'era una discreta amicizia e avevamo costruito insieme nel senso che avevamo questo progetto comunque parlandone appunto mesi prima quindi eravamo tutti anche ansiosi di vedere il suo giudizio su una trasposizione teatrale che però è proprio fedele al film cioè esattamente le stesse battute e quindi è un grande dispiacere anche perché era una persona e un regista che riusciva a mettere insieme commedia e tragedia, a far piangere e ridere e aveva sempre una sua ironia che lo rendeva anche molto amabile per cui anch'io, attore, quando lo incontravo stavo a sentire i suoi racconti ma una persona che non ha perso con l'età come dire, l'autoironia la capacità di... non era mai banale nelle cose che diceva insomma per cui il suo giudizio è veramente una cosa che lo speravi di averlo per avere magari qualche conferma o avere qualche... così qualche luce per capire un po' meglio per cui riportare in teatro tutte le sere è stato veramente... come dire un omaggio continuo nei suoi confronti perché veramente le battute che lui ha scritto con Maccari in quel film sono fantastiche l'impianto di come lui ha raccontato questo momento storico questi due personaggi Scola non parlava mai da autore dentro i film nel senso faceva parlare i personaggi faceva agire loro quindi non c'era mai di Dascalia non c'era mai... non so dovete pensare che allora il fascismo è cattivo no, era tutto dentro le dinamiche dei personaggi tu capivi appunto tante cose per cui è un privilegio dire queste sue battute tutte le sere insomma è stato per... questo è il terzo anno che portiamo una giornata particolare abbiamo fatto un sacco di repliche in giro in tutta Italia siamo molto ovviamente molto felici però anche molto orgogliosi di avere in qualche modo riportato a teatro per chi magari ha la memoria di quel film una storia veramente molto di solitudine molto bella molto tenera molto forte anche e molto particolare anche come lì l'ha concepito infatti stava parlando del fatto che tutti gli attori hanno dentro di loro tutto ciò che Scuola voleva raccontare è proprio nella telefonata che fa Marcello Mastroianni in cui poi dice il titolo del film e parla al telefono con Marco che viene rivelato quello che lui intimamente è e si sente poi nel sottofondo il coro fascista quanto c'è nel personaggio di Marcello Mastroianni e di Giulio Scarpati sul palco? Mastroianni ha fatto un'interpretazione meravigliosa di una sottigliezza di una leggerezza ma insieme di profondità veramente ineguagliabile per fortuna è un'altra cosa cioè il cinema è una cosa il teatro è un'altra quindi mi salvo sapendo che il confronto è su piani diversi però è un personaggio veramente che scopri ogni sera ogni sera hai nuove sensazioni perché è un personaggio che è costretto a nascondersi che in quella telefonata rivela un po' anche la sua natura insomma parla con questo fidanzato che poi non si vede mai è soltanto una voce al telefono che neanche si sente e però si intuisce e anche questo è un elemento di bello perché in realtà è come se una persona dovesse avere sempre un'apparenza e dietro questo un'altra identità ed è quello che poi confesserà Gabriele il personaggio del film dell'aspetto teatrale quando ad Antionietta dirà è la cosa più grave che è nascondersi devi sempre sembrare diverso da quello che sei e questo è forse anche la chiave del personaggio che è un personaggio che come anche Mastroianni ballava, cantava l'idea è che sia un personaggio che vorrebbe vivere una vita felice e soltanto il fatto che a causa della sua omosessualità viene cacciato dalla radio lui non riesce più a fare quello che normalmente faceva ma è un personaggio che sarebbe positivo sarebbe felice sarebbe gioioso invece diventa malinconico ma alternando questa malinconia a momenti invece di grande euforia insomma è una bella sfida perché Gabriele e Antonietta sono dei bellissimi personaggi e Valeria Solarino che fa Antonietta è straordinaria ho trovato con lei una grande sintonia è una veramente seria ma precisa insomma e racconta questo personaggio con grande con grande profondità secondo me insieme all'allestimento di Nora Venturini ha reso secondo me possibile anche perché il film era comunque molto teatrale nel suo impianto quindi riprodurlo a teatro è stata sì una scommessa ma anche una scommessa credo anche abbastanza rinta per cui insomma non è l'invito a prendere sempre dai film ma certe volte infatti ci chiedono spesso ah ma è stato tratto da una piastra teatrale invece no non è così però è vero che l'impianto è molto simile radio doppio zero radio doppio zero suona ciò che ami più suona e più la ami a a Grazie per la visione!